Pessime condizioni igienico-sanitarie e ben 500 kg di alimenti tenuti in cattivo stato di conservazione. Sono le irregolarità riscontrate dalla squadra interforse coordinata dalla Questura che hanno portato alla chiusura del ristorante cinese Wenzu in via Pistoiese nel mezzo del passaggio pedonale che porta in via Filzi. Il controllo è scattato ieri pomeriggio. All'interno del locale sono stati trovati sette dipendenti, tutti in regola con il permesso di soggiorno. Ciò che non era in regola invece era lo stato igienico-sanitario del ristorante che oltre alla chiusura coattiva ha portato gli agenti a elevare sanzioni per circa 4.000 euro. Contestata anche la mancata tracciabilità della etichettatura dei prodotti.